Inizia con accenno destra, 40, buona fortuna, 5, 4, 3, 2, 1, via, accenno destra, 40, sinistra 4 sudosso, 60, destra 4 corta, sudosso, 100, stai a sinistra su salto, 100, accenno destra, 40, sinistra 4 e destra 6, in sinistra 6 sudosso, apre, in accenno sinistra, sudosso, 40, dosso piccolo e a pallamento, 100, stai a destra su salto grande, in destra 6, 80, sinistra 5 corta, sudosso, 50, destra 5 sudosso, in dosso lungo, subito in sinistra, 2, 40, destra 4 sudosso, apre, 60, stai a sinistra sudosso, 80, dosso, in sinistra 3, in dosso piccolo, 40, destra 5, 40, ritardo a sinistra, 4, apre, 6, chiude, in destra 4 sudosso, 50, dosso, e accenno destra, 80, dosso lungo, 50, destra 6, rallenta e a video sinistra 3, chiude, 80, dosso, in dosso piccolo, 30, destra 5, apre, lunga, chiude 3, tieni, in sinistra 4, 70, salto piccolo, e salto 40, stai a destra su salto grande, 120, sinistra 3, chiude sudosso, 30, destra 5, apre, 120, sinistra 2, corta, sudosso, 30, destra 3, 30, anticipa a sinistra 4, taglia, frena, 40, al video secca sinistra, 80, destra 3, 80, dosso, in sinistra 6, lunga, chiude 4, dopo incrocio, in indosso, 50, al video destra 1, 130, sinistra 6, corta, in accenno destra, 90, dosso lungo, 60, arrivo, in destra 6, all'arrivo, ok, il tempo è di 2 minuti, 25,7, grazie a tutti